Ricordiamo oggi le migliaia di nostri conterranei che morirono, assassinati brutalmente dalla ferocia comunista del maresciallo Tito, rei soltanto di essere italiani. Ci auguriamo che la giornata del ricordo, il giorno del ricordo, non sia soltanto meramente un passo così di ricordo, tanto per dire, il giorno del ricordo deve trovare spazio fra la gente, nelle scuole, tra le nuove generazioni, perché la verità non può essere infoibata. Grazie. Grazie.